FALCONERE CRISTOVIC Poi raffia Gran palla in verticale di prima per DORGU Che ha preso il tempo a Deron DORGU Mastica la conclusione PASALICIA Riapre Zappacosta In aria chiama il pallone RETEGI Eccolo il cross Lo stacco di RETEGI FALCONERE Poi Brescianini La prima gioia Con la maia dell'Atalanta All'esordio da titolare In Serie A e in live Per Marco Brescianini Lecce 0 Atalanta 1 Ederson Ruggeri Aria affollata Il cross Per RETEGI Esordio con gol Anche per Matteo RETEGI Lo stacco dell'ex Genoa Lecce 0 Atalanta 2 Banda Chiude il triangolo Con Gallo Parte il cross Gendrè Aveva preso bene il tempo Non colpisce bene Palla sul fondo Zappacosta In mezzo Per RETEGI Culebali Poi Ederson Gran parata Di Falcone In calcio d'angolo Step on foot E calcio di rigore Matteo RETEGI Un esordio da sogno Doppietta alla prima Con la maia dell'Atalanta Lecce 0 Atalanta 3 Passa Liccia Gran palla con l'esterno Posizione buona Brescianini in area Brescianini Un'altra doppietta all'esordio Dopo RETEGI Anche Brescianini L'Atalanta Cala il poker Lecce 0 Atalanta 4 Gendrè Ha visto il taglio Di Pierotti Alle spalle di James City Ancora Pierotti Col destro Musso Si distende Culebali A cercare Banda Ha preso il tempo a Ruggeri Banda Chiude il palo di competenza Musso In calcio d'angolo Gallo Batte corto Con Raffià Di nuovo per Gallo Il cross Sul secondo palo Maschirotto Anche sfortunato Qui in Lecce Non c'è più tempo L'Atalanta Vince la prima Di Serie A Any Live Finisce 0 a 4 In casa del Lecce I'r'E 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 Grazie a tutti.